Musica Dall'arte inizio della psicanalisi è il 1900, la psicanalisi nasce col secolo. Quando lui pubblica il primo libro che corrisponde a questa descrizione della psiche che vi ho detto. Il primo libro nel quale lui annuncia le sue scoperte è del 1900 e non a caso si intitola L'interpretazione dei sogni. L'interpretazione dei sogni è il libro del 1900 con cui si apre il discorso psicoanalitico. Vedremo perché i sogni sono molto importanti. Lui è morto nella fine dell'Inghilterra, quindi ha avuto più di 30 anni per approfondire le sue ricerche e gli studi. Quello che noi adesso abbiamo detto è la prima descrizione che lui ha fatto, poi ci sono stati ulteriori approfondimenti che noi accenderemo. Quindi a 44 anni pubblica niente per il suo bisogno perché quando è il 38 i nazisti si ammetterono l'Austria. E dietro fastidio a Freud che era ebreo, gli entravano in casa e si mettono a soppardo alla casa, alla biblioteca. E grazie alla mediazione del governo inglese, Freud e alla sua famiglia potevano riparare la guerra. Infatti si racconta anche che per ora la Gestapo volle che lui firmasse una dichiarazione in cui non gli aveva causato niente, che non era proprio vero. E Freud mi disse, si non solo non abbiamo fatto niente, ma posso raccomandare la Gestapo comunque. Allora lui era già un altro da tempo perché era già da più di anni che aveva un tumore alla mammigola. Forse perché fumava troppo. Molestica. E quindi poi non ho fatto rispetto alla morte per questo tumore. Però sono ravvissuto per molti anni. Tra l'ora pare che nel duro è molto molto pesante perché gli toglie un pezzo di mandigo alla volta. Un pezzo di mandigo alla volta. Il 39 aveva già 83 anni. Allora lui, mi ripeto, ha fatto questa avventura. Ma è veramente un'avventura. Si è inoltanti in questo territorio. Tra l'altro si è reso conto anche di una cosa. Ecco, il concetto psichialidico, il concetto di arresistenza. Si rende conto che, ma perché nessuno mai prima di me si è inoltanti in questo territorio? Eppure è da lì, disponibile all'accesso e alla visione di tutti. Perché appunto il fatto che ci sia l'inconscio e il conscio separati ha una sua ragione. E quindi, una sua ragione secondo lui è anche evolutiva. Lui poi ci spiega perché c'è questa differenza. E lo spiega in termini proprio di biologia evoluzionistica. Perché lui era un seguaggio di Dario. Qui ci spiega che esiste questa differenza tra conscio e in conscio che moltiplici biologia evoluzionistica. E si fanno così. Lo stesso vale per altre parti del corpo. Cioè, se l'uomo ha la stazione eretta, è chiaro che il corpo fa resistenza a altre forme di deambulazione. Cioè, se mi mettesse ad andare a quattro zampe, il corpo stesso mi lancierebbe dei segnali, farebbe resistenza, farebbe i dolori. Non mi comporterei come dovrei, insomma. Lo stesso per quanto riguarda il conscio e l'inconscio. Cioè, la psiche, nel suo compresso, fa resistenza a che l'inconscio si renda conto dell'inconscio e lo esplori a sua volta. Dice questo concetto di resistenza, il concetto più grande del psichialidico, perché noi di resistenza interna ne abbiamo molte. Ecco, vi ho detto che lui non solo ha studiato come è fatto al psichico, ma anche le forze che la caratterizzano. Allora, una delle forze tipiche del mondo psichico è la resistenza. Cioè, noi facciamo resistenza a, per esempio, la resistenza primaria è questa, che il conscio esplore l'inconscio. Ma una resistenza inconscio. Sì, è una resistenza inconscia. Ci sono diversi tipi di resistenza. Un altro tipo principale è che noi facciamo resistenza a noi stessi nello comprendere che esiste l'inconscio e che svolge questo ruolo. Cioè, la coscienza non è che solitamente affermi o accetti questo, anzi, la coscienza tende a far il contrario, tende a pensare di autodeterminarsi. Quindi l'effetto della resistenza è un inganno della coscienza. La coscienza tende a concebirsi come autonoma, indipendente. Perché, in effetti, qui si tratta di uno shock per l'uomo occidentale, per l'uomo. Infatti, Freud viene paragonato a Copernico e a Darwin. Sarebbe stata la terza grande rivoluzione antropologica. Copernico, il primo a dire che la terra non è il centro dell'universo. Quindi il primo decentramento che noi abbiamo subito nel tempo moderno, è con Copernico che ci avrebbe tolti dal centro dell'universo. Darwin avrebbe causato il secondo shock. Cioè, avrebbe fatto capire all'uomo che non è un essere indipendente, autonomo, somigliante a Dio, ma di essere invece discendente di una lunga storia animale. Freud avrebbe causato nel terzo shock. Cioè, avrebbe detto alla coscienza quanto essa dipenda dall'altro. E quindi è uno shock notevole che va contro l'idea che invece noi ci faremmo della nostra autodeterminazione. Non siamo noi ad autodeterminarci, ma sono altre forze, altre dinamiche che ci spingono a fare tutte le scelte e a orientarsi in una certa direzione. Da questo punto di vista qualcuno ha paragonato a Freud anche a Max, in effetti. Cioè, come Max diceva, non è la coscienza a determinare le condizioni materiali di vita, ma sono le condizioni materiali di vita a determinare la coscienza. E anche qui, non è la coscienza a determinare se stessa, va bene? Ma sono le forze inconsce a determinare le scelte coscientiche. E questo, ripeto, va sottolineato fortemente perché questa grande scoperta, come tutte le grandi scoperte, non è che si limitano a scoprire l'oggetto indiziato dall'autore, ma modificano l'equilibrio complessivo delle nostre conoscenze. Cioè, con la psicanalisi, noi abbiamo subito, ripeto, uno shock paragonabile all'eliocentrismo di governi con la teoria evoluzionistica di Garni. Ora, ce ne accorgiamo un po' meno oggi perché ormai la psicanalisi è penetrata dentro il linguaggio anche comune e quindi, però, i primi che hanno sentito queste cose non ce ne avevano perché pensavano allora, non sono più un essere razionale e equilibrato, si dice in latino compos sui, cioè che si autocontrolla, ma non sono nient'altro che il prodotto di una serie di forze a me sconosciute e, in quanto sconosciute, incontrollabili da me. Sì, Freud dice, sì, ma tu fai tanta fatica a riconoscerlo perché c'è la resistenza in atto. La resistenza è quel tipo di meccanismo che ci impedisce di prendere coscienza di come le cose stanno perché questo romperebbe certi delicati equilibri perché la resistenza a sua volta è anche giustificata, no? Perché se io svelassi a me stesso tutta la verità potrebbe essere compromesso e di equilibrio generale. Di solito la resistenza è una sorta di, come dire, di cerotto che è stato messo da qualche parte per proteggere una parte di noi. Se noi togliamo tutti i cerotti, corriamo. Quindi la coscienza non può accettare di non essere coscienza e non può accettare di riconoscere di essere determinata forzamente dall'incontro. E lui come ha fatto? Come schiava di lui? Anche questa è una domanda che comporta una serie di risposte. Cioè quando si chiede, si fa questa domanda, deve farla a livelli diversi. Cioè intanto ci vuole una circostanza. Cioè quando ci serve qualcosa ci sono sempre più cause. Intanto una circostanza. La circostanza è quella di un medico che aveva imparato l'ipnosi, la circostanza che le nervosi erano in crescita. E quindi quella circostanza che gli ha detto, ok, allora ci deve essere qualcosa. E quindi, come Colombo, ha detto, vuole vedere che si può circondavigare il globo? Stessa cosa. Un po' un Cristofalo Colombo dell'antra, la psiche. Questa è quella. Poi. A volte la scoperta nasce anche dalla sofferenza, appunto, cioè, o dal coraggio, o da certe capacità. Sicuramente Freud era un uomo molto introiettivo. Cioè un uomo che aveva il coraggio di guardarsi dentro. Infatti lui lo fa capire, lo riferisce diverse volte. Anzi si è convinto, ha capito che aveva un rapporto particolare col padre. E lui si è convinto, forse non è neanche vero, ma si è convinto che solo la morte del padre, solo dopo che il padre fosse morto, lui poteva intraprendere questo viaggio. Cioè fino a quando il padre è rimasto in vita, lui lo sentiva come un blocco morale o di altro genere a esercitare questa esplorazione. Ciò è il segnale, l'indizio del fatto che questo uomo non è un uomo solo che vive nell'esterno. Se fosse un uomo che vive solo nell'esterno, sarebbe rimasto un medico. Va bene? È un uomo che vive all'interno, cioè che si guarda dentro e che cerca anche di agilare le proprie resistenze. A chi verrebbe in mente una cosa del genere? Se ti verrebbe in mente una cosa del genere non pensi che è spetazzo. Una cosa un po' che soltanto persone assai coraggiosi, assai capaci di guardarsi dentro e di lavorare dentro se stessi, sono in grado di fare. E allora fra l'altro questa è la seconda elettristica. Magari tanta altra gente si è raccolta di questo. Infatti che esistesse un inconscio ogni tanto qualcuno l'aveva già detto in passato, non è la prima volta. Se vogliamo anche in Fichte la produzione dell'unio da parte dell'io è inconscia, se mi ricordate. Quindi non è la prima volta che indagereva questo tempo. Però sicuramente Freud rispetto a Fichte era un uomo più problematico, più introiettivo, introspettivo. D'accordo? Quindi una serie di circostanze storiche e personali. Delle caratteristiche anche proprie personali, esistenziali. Infatti Freud poi ha prescritto a tutti quelli che volessero diventare psicoanalisti un periodo di analisi. Cioè quello che lui ha fatto, dentro di sé, lui ha fatto l'autoanalisi e oggi, ancora oggi, se tu vuoi diventare psicoanalista fogliato, lo vuoi diventare. Perché c'è un'associazione che ammette il 50% di medici e il 50% di non medici. Se tu vuoi diventarlo, la tua volta vuoi curare gli altri, devi fare un lungo training di analisi. Devi andare da uno psicoanalista e per 4 anni farti analizzare. Cioè, farti dire da lui quello che tu non diresti mai a te stesso. Il primo inconscio che lui ha esplorato è il suo. Con grande sofferenza pure, eh. Che ha scoperto una serie di cose che nessuno aveva mai scoperto. Cioè ha scoperto, per esempio, che, appena detto, che fra genitori e figli, oltre all'amore e all'affetto, c'è anche l'ostilità fisiologica. Ma non basta. Tutto questo non basta. Che cos'altro ci voleva? Altre tre ingredienti importantissimi. Una cultura medico-scientifica di altissimo livello non basta. Perché la psicoanalisi è una cosa di più. Cioè, almeno un altro paio di ingredienti che non sono di natura medico-scientifica, ma sono di tutta altra natura. Per esempio, lui ci ha messo dentro anche una valorizzazione enorme della mitologia greca. Quindi degli studi classici. La psicoanalisi è una strana e interessante mistura fra materialismo medico-scientifico e classicismo e classicità. Non molto strana, perché il modello educativo del tedesco medio, del manofono medio, è sempre stato questo, ancora oggi. Il ginnasio tedesco, che è una scuola dell'Utta, chi sceglie il ginnasio, che formazione riceve? Riceve questa formazione fortemente scientifica, ma anche fortemente classica. E per fuori la mitologia, e questa è stata una scelta interessante che lui ha fatto, una scelta anche questa poco, come dire, tradizionale, poco consueta. E cioè, anche qui voglio dire, un certo razionalismo della coscienza, cioè tutto ciò che non corrisponde a un criterio di calcolo ben preciso, sembra essere più di significato, più di senso. E no, dice la parola, se gli uomini che hanno costruito la nostra civiltà hanno perso tanto tempo, per volerche, ad elaborare una serie di racconti, di miti, in questi racconti, in questi miti, ci deve essere qualcosa di importante anche per noi, che parla anche a noi, alcuni segreti ci devono essere nella nostra vita. Non possono essere semplicemente cose di un passato primitivo, che in quanto tale possiamo anche, di cui possiamo sbarazzarci facilmente, anzi, di cui dobbiamo sbarazzarci. Cioè la mitologia è una sorta di deposito, di sapienza originaria, di verità originaria, che vanno rilette e riaggiornate. Per esempio, la cosa più famosa della psicanalisi è il famoso complesso di Edipo. Ha aggiunto un ultimo tassello, per capirci. C'è un altro tassello che è di natura ebraica, la sua cultura italiana. C'è un altro tassello, per capirci. Grazie. 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 Grazie.